buonasera allora stasera voglio parlare di una situazione che si sta verificando in massa sui social ed ecco dalla quale vi voglio mettere in guardia voglio mettere in guardia per lo più le donne perché perché questa situazione la stanno creando nel 99,9 per cento dei casi degli uomini uomini ovviamente chiamarli uomini è un dispregiativo verso la razza maschile perché nella razza maschile ci sono anche tanti uomini con la u maiuscola per fortuna che non sono uomini ma sono manipolatori il manipolatore lavora in molti sensi ed è un manipolatore psicologico purtroppo anche nel paranormale stanno prendendo campo questi personaggi a mio avviso più che squallidi perché quello che ti scrive il messaggino e ti scrive a quanto sei bella quanto sei gnocca o ti ti chiede come va o altre mille minchiate ci può stare è uno che c'è prova lo blocchi se lo vuoi bloccare lo lo ascolti se lo vuoi ascoltare fai quello che te pare è semplicemente una persona che prova ad avere un qualche contatto a volte anche solo di amicizia ma in generale anche che ci provasse perché gli piace provarci è libero nella vita ma un conto è provarci un conto invece essere manipolatori psicologici sempre più spesso essendo io in tanti gruppi su tanti social diversi proprio che trattano il paranormale noto che ci sono appunto questi esemplari di esseri maschili che si approfittano della credulità della della delle credenze soprattutto appunto di donne e inventano varie situazioni in base a come hanno studiato la persona i classici sono tre quello che spara che è il tuo filo che è legato a te che ha avuto regressive dove ti ha visto nel passato in qualche altra reincarnazione eravate insieme e si inventa tutta una pappardella che non finisce più quello che ti dice di essere un demone incarnato o un angelo incarnato e che ti legge nel pensiero che ti può mandare messaggi telepatici che ti vede qualunque cosa tu stia facendo che poi sono un po come i tarocconi che ti leggono nel futuro e che ti dicono oggi hai fatto la pipì hai bevuto un caffè e hai mangiato leggermente in ritardo che praticamente la vita di tutti tutti i giorni ma loro lo spacciano per ti vedo vedo cosa stai facendo come dicevo anche per quelli che si spacciano veggenti e poi spilano soldi il mondo dei social permette di sapere talmente tanto sulle persone che la metà basta se una persona niente niente per chi non è capace capisco che possa sembrare strano io essendo aperito informatico ti so trovare anche che numero di scarpe porti se sei iscritto in un social qualsiasi social anche se c'è l'account blindato io non lo faccio non me ne frega niente a meno che non devo controllare che non ci sia qualche intruso nei gruppi che gestisco allora li controlle come ma per capire che non siano appunto dei truffatori ma altrimenti io non faccio veggenze io non faccio consulenze io non faccio niente di questo genere io scrivo libri do spiegazioni palesemente gratuite in internet non voglio nemmeno essere contattata in privato quindi assolutamente io tutto quello che faccio lo faccio così alla luce del giorno sui video nei commenti pubblici nei vari gruppi mi conoscono tutti quindi a me non me ne può fregare meno peraltro i pseudoveggenti ma anche sta gente qui i pseudomarpioni paranormali preferiscono utilizzare i vocali o parlare direttamente al telefono piuttosto che non scrivere perché con lo scritto rimangono le prove e loro non vogliono lasciare prove ma il truffatore lo fa per soldi sta gente qua lo fa per marpionaggine e impapocchiano talmente tanto le persone perché appunto hanno una tendenza manipolatrice a credere alle stupidaggini che dicono comunque dicevo c'è quello che ti dice che siete dei fili di varie reincarnazioni c'è quello che ti dice di essere un'entità elevata incarnata magica e sa fare di tutto e c'è quello che ti convince o quasi ti spaventa che lui è potente potrebbe mandarti chissà che cosa o chissà chi ecco quando questi personaggi entrano per sfiga perché solo sfiga nella vostra vita nelle vostre chat al primo messaggino del non te lo volevo dire ma io sono lucifero incarnato o michele che che sia bloccateli bloccateli immediatamente proprio senza possibilità di ritorno senza passare dal via direttamente a parco della vittoria come se foste al monopoli proprio dovete bloccarli e gente che non non dovete e gente i manipolatori esistono anche al di fuori di internet e anche al di fuori della paranormalità purtroppo l'essere manipolatore è vicido e squallido è una persona calcolatrice e non avete idea di quanto riesca a conoscere la psicologia e a girarla a suo favore il manipolatore girerà qualunque discorso a suo vantaggio lui saprà qualunque cosa lui avrà la verità oggi gioco col braccialetto di giada peraltro regalo di una mia carissima amica e il manipolatore è un essere pericoloso a prescindere ma questa gente che adesso sta uscendo fuori come funghi in tutti i gruppi quasi di paranormale fortunatamente non quelli che gestisco perché in quelli che gestisco io con le colleghe volano come pipistrelli di notte proprio fuori subito alla prima battutina idiota fuori dalle balle se vogliono fare i marpioni lo vanno a fare in altri gruppi non nei nostri ma in generale sono forse ancora più pericolosi perché giocano in un campo che non conoscono mettendo a rischio se stessi e gli altri giocano col paranormale col paranormale non si gioca ma oltre a questo discorso qua intimoriscono le persone e io l'ho detto già in altri video il confine tra paranormale e psicologia molte volte si sfiora una persona estremamente ferrata e studiata si dice con basi psicologiche può riuscire a incantare con i suoi discorsi persone un po più anzi un po meno ferrate in certe tipologie in certe tematiche in certe scienze questa gente è talmente convincente soprattutto quando si è data di parlare a voce per questo che preferiscono parlare e non scrivere da riuscire a volte a indottrinare persone in cose assurde spaventarle in maniera assurda convincendoli che loro abbiano dei poteri abbiano allora io ho già detto mille volte che i doni sono doni quando tu li usi per donare un qualcosa che sia un aiuto che sia una mano che sia qualsiasi messaggio un'informazione un insegnamento è un dono se tu hai un dono lo devi donare già se chiedi soldi i doni non ne hai lo dico sempre se ti fai pagare ripeto non sto parlando del ritualista che vai a cercare tu gli chiedi di usare 15 candele 27 incensi e 32 pelli di serpente voglio dire è normale che gli devi pagare a te se vuoi quella cosa prescindere che io non mi farei mai fare un rito ma se uno ne ha necessità il materiale e quello è un lavoro il ritualista ci perde ore ci perde giornate e via dicendo come anche il discorso anche volendo della cartomante la cartomante o quella del pendolo è una veggente che ha studiato con la materia ma non è una persona che ha dei doni che è nata con dei doni ma chi ha delle capacità extrasensoriali le deve mettere a di lei l'ha avuta gratis le deve mettere a disposizione gratuitamente di tutti e soprattutto il minacciare in nessun modo per far sì o spaventare le persone per far sì che queste poi si facciano fare cose e paghino è veramente la cosa più squallida che esista dovrebbero arrestarli tutti questo genere invece di manipolazione non è atta a truffare a livello di soldi le persone ma per la più truffa le persone a livello emotivo a livello sentimentale a livello che forse anche peggio c'era un zanzarino forse anche peggio perché in un caso una ci rimette soltanto al limite dei soldi nell'altro caso ci rimette anche la salute psicologica e le ansie che poi si porta dietro non date mai adito a persone che vi contattano in maniera privata dicendovi di avere dei doni e delle capacità eccetera e raccontandovi di punto in bianco la favola dell'uva a prescindere che chi ha dei doni delle capacità e aiuta il prossimo non si sogna minimamente di venirvi a cercare in privato perché ha già talmente tante cose da fare da sistemare che ci mancherebbe anche che va a caccia di gente giusto perché non ne ha io sono una di quelle come le mie colleghe che dico se non mi state a contattare in privato se volete fare una domanda vi rispondo pubblicamente qui negli altri social non me ne può fregare meno non voglio essere cercata in maniera privata non ho voglia di parlare in maniera privata non ho tempo di spiegare in maniera privata proprio perché chi ha delle capacità ma oltre alle capacità io le chiamo peculiarità ha anche dei doveri delle missioni a portare a termine ha già talmente poco tempo per se stessa da non riuscire neanche lavarsi i capelli la domenica un esempio a caso che figuriamoci se si mette a contattare gente in privato così a cazzo guardo la tua foto e te non esisterà mai se ti contatti in privato c'è sempre la truffa dietro discorso a parte per qualche medium è successo anche a me in passato che avendo un messaggio da dare da parte di un defunto a un vivente ha avuto la necessità di contattare questa persona ma il messaggio di un medium serio che deve dare questo messaggio è hai pazienza pigliami per pazza ma tuo nonno sto facendo un esempio mi ha detto di dirti questo questo e questo io te l'ho detto amici come prima saluti abbracci e finisce lì non c'è un continuum non te lo puoi ricontattare quindi la base è sempre di non rispondere a messaggi privati soprattutto in campo paranormale ma poi valutare assolutamente anche il perché vi contattano e tutto il resto perché se una ti contatta scrivendo ti guarda che io vedo che c'hai una maledizione è sicuro non c'è neanche quello 0,1 per cento di probabilità che tu ce l'abbia è sicuro che questa t'ha contattato perché ti vuole spilla soldi o questo che sia se partono con ti sento affine a me ti sento legata a me te lo devo dire noi abbiamo avuto altre vite passate insieme e cazzate di sto genere è una truffa manipolatrice quindi non per soldi il 99 per cento delle volte anche se poi c'è anche quello che lo fa per soldi ma in generale semplicemente per marpionaggine quando va bene quando va male vi portano anche al punto di farvi delle foto che potrebbero essere equivoche che voi mandate come dei pici perché ormai siete a sue fatti dalle stupidaggini che vi racconta il tipo per poi ovviamente essere ricattate dopo per quelle foto una cosa che non si dovrebbe mai fare mai mandare foto proprie che non dovrebbero essere divulgate nel senso se vuoi una foto della mia faccia te la faccio anche se vuoi una foto della mia chiappa non te la faccio non me ne frega niente quelli che trovano la scusa della lontananza e del sesso in internet sono veramente squallidi non esiste proprio anche sta cosa però quella è una questione di gusti personali ma almeno conoscete le persone con cui volete far qualcosa ma non col primo stronzo che capita che ti dice che ti ha conosciuto in una reincarnazione precedente che siete legati che vuole verificare se c'è ancora il neo sulla chiappa destra detto questo stasera era proprio un video di come si dice di salvaguardia delle persone che ci tengono a non essere fregate manipolatori sono anche quelli che vi convincono talmente tanto per esempio ti sto parlando nella mente mi senti e tu ovviamente c'è caschi ti arrivano dei pensieri tuoi meramente tuoi legati a quella condizione e pensi che te li stia inviando lui ovviamente se tu gli dirai mi stai mandando una carota lui ti dirà di sì che non è mica scemo quindi anche lì prendiamolo con le pinze in ogni caso tornando al discorso delle truffe manipolatrici in generale quello che ho già detto in altri video e che ripeto questo video non avrà tanto successo perché la gente spesso queste verità non le vuole sentire non le vuole sentire dagli scettici figuriamoci quando a dirle è qualcuno che di paranormale ci vive non le vuole sentire perché preferiscono le belle bugie alle brutte verità molte persone e quindi che poi sono le persone che cascano nei truffatori seriali sia per soldi sia per marpionaggino che che fosse perché ci sperano talmente tanto che poi c'è cascano e io sono proprio loro che vorrei mettere in guardia perché le persone che hanno un minimo di raziocinio si rendono conto molte volte che stanno finendo in una qualche truffa mentre quelle che raziocinio non ce ne hanno perché appunto per speranza ovviamente per attaccamento per per cercare di trovare una soluzione a quello che per loro è un problema si attaccano a tutto e purtroppo c'è gente così fetente che se ne approfitta sia in campo finanziario e sia in campo psicologico portando poi peraltro dei grossi danni sia economici e sia soprattutto appunto a livello di psiche a livello di persona perché queste persone escono quasi traumatizzate da queste situazioni molte volte perché sono comunque già persone deboli di loro per caderci deboli in senso buono nel senso che sono talmente affrante da certe problematiche da essere dei facili bersagli questo intendo non era un'offesa e quindi ogni tanto ogni tot poi ultimamente me l'ha ricordato un'amica di parlare di queste cose e quindi stasera ho fatto un altro video avvertenza era già un po che non ne facevo ricordatevi sempre 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 che le persone reali nel mondo del paranormale ci sono ma non vi vengono a cercare ma nemmeno se foste in pericolo di morte vi vengono a cercare io non vedo per esempio le fatture le maledizioni ma anche le vedessi non mi metto a fermare la gente per strada dicendogli tu c'è una fattura e non mi metterai a scrivergli se fossi una persona che lavora sui vivi io non lo faccio nel senso che io non sono una persona che vede che ha sensitività sui vivi e non la voglio nemmeno anche quel poco che vedo io non lo vedo a prescindere ma anche fossi preposta all'aiuto come ho delle colleghe all'aiuto nel togliere fatture nel togliere maledizioni nel togliere mal occhi e via dicendo o ti insegno come fare o posso anche togliertelo se sono preposta a farlo ma se mi cerchi tu io ripeto no io non lo faccio io sono preposta ai morti ai defunti all'entità in generale che siano anche di altre razze ma entità io non ho niente a che vedere con i vivi io sui vivi posso vedere quando capita perché è una cosa involontaria le patologie mediche e in quei casi sì mi permetto di dirgli guarda hai pazienza dovresti farti vedere la tiroide guarda hai pazienza fai i tuoi controlli al fegato però sempre indirizzandoli dal loro medico di casa non mi permetterei mai di prendere il posto di un medico anzi dico sempre che prima di tutto bisogna andare sempre dal medico a prescindere ma il consiglio ben venga nel senso che anche se me lo facessero a me mi dessero un consiglio guarda ti vedo che ne so con laura sporca fatti i tuoi controlli valuta la tua vita che ne so prova la tecnica per vedere se c'è il mal occhio per conto tuo a casa tua che la insegnerò poi nei video quelle in abbonamento perché lì farò proprio i video specifici con i vari insegnamenti su come fare le cose ma a prescindere da questo non mi permetterei mai di chiamare una persona di c'hai una maledizione c'hai un mal occhio c'hai una fattura così a cazzum per poi perché poi sta gente qua si offre di togliertela ovviamente perché se no mica te l'avrebbe detto che ce l'avevi infatti la risposta più figa che si può dare davvero allora ti ringrazio vado dalla mia maga di fiducia anche se non è vero soltanto per rompergli i coglioni questa gente qui che ti manda sti bigliettini da visita a messaggio sperando che poi possa spillarti degli spiccioli detto questo vi saluto vi do la buonanotte e domani continuerò con le mie tematiche solite ma ogni tanto una rinfrescata anche e anche questo è un aiuto anche cercare di far comprendere proprio con le parole che usano con i metodi che usano e via dicendo come difendersi in questo mondo perché sta gente che lo faccia per soldi che lo faccia per marpionaggine che lo faccia perché è un mitomani che lo faccia per qualunque motivo sta gente rovina anche la fama e la categoria stessa del paranormale dallo studioso al ricercatore al ghost hunters a chi qualche peculiarità ce l'ha realmente tutte queste persone vengono screditate da sta gente che cerca solo di guadagnarci popolarità soldi o qualche trombate trombate così non mi censure vi ricordo che qua sotto ci sono tutti i link dei vari social che frequento e un po più sotto ci sono tra quattro le più famose le più conosciute le più facili da usare come amazon libri come street lib e ips mondadori feltrinelli eccetera ma su google se scrivete sveva molinaro libri esce fuori il mondo quindi il problema non sussiste ciao